Un nuovo passo avanti per il Colosso Saviola. Il gruppo infatti, dopo una prima acquisizione in Germania alla fine del 2022 per la precisione a Germensheim in Renania, inaugura il 2023 con una nuova operazione mastodontica che aiuta l'espansione, soprattutto a livello europeo, dell'importante azienda vialanese Colosso nel settore del legno. È stata infatti acquisita per il 100% la società belba Advacem. L'ok è giunto nei giorni scorsi dell'autorità antitrust, dato che ovviamente per perfezionare un'operazione del genere servono diverse settimane e spesso anche mesi. Advacem è un'azienda storica di primo piano a livello europeo specializzata nella produzione di resine e colle per l'industria del legno e dell'arredo e di fertilizzanti liquidi. Dunque l'operazione è chiaramente destinata a rafforzare la Sadepan, una delle divisioni principali del gruppo Saviola, che produce appunto resine e componenti per la produzione di pannelli intrucciolare. Soddisfazione è stata espressa da Alessandro Saviola, capo del gruppo, che nell'evidenziare il passo verso l'internazionalizzazione dell'azienda, ha parlato anche dello sviluppo green e sostenibile nel settore sempre delicato della chimica, dato che l'azienda belga acquisita ha portato avanti negli anni una ricerca che ha portato a produrre resine più rispettose sia dell'uomo che dell'ambiente. Siamo certi che l'integrazione del gruppo Saviola, ha detto Mardin Benjamin, direttore dell'azienda belga, rappresenti una grande opportunità per il futuro dell'azienda, per i suoi clienti e per il personale tale operazione permetterà all'azienda da un lato di preservare un DNA familiare, parte integrante della nostra identità da sempre, e dall'altro di affrontare efficacemente le nuove sfide che ci attendono sulla transizione tecnologica e ambientale.